Ciao a tutti da Mattia di MoraldiWeb, in questo video ti mostro che cosa devi fare per installare l'EG elettronico per la prima volta. Allora appena scarichiamo il pacchetto lo apriamo e troviamo dentro il setupitaliano.jar, lo lanciamo e usiamo la finestra di dialogo che si apre per andare a selezionare la cartella nella quale vogliamo installare e creare di sana pianta il nostro leggio. Ci dice sarà installato in, esatto, clicchiamo su ok e attendiamo il messaggio che dice adesso puoi usare il nuovo score insert. Allora andiamo a cercare la cartella dove lo abbiamo installato e vediamo che è presente score insert 8.jar, lo lanciamo, lui si crea le risorse che gli servono e parte. Nella finestra iniziale noi dobbiamo inserire le credenziali per identificare la copia del programma, nome, cognome, email, poi premiamo su ok e si apre score insert per la prima volta. Bene l'installazione è completata. Questo video termina qui, se ti è piaciuto usa i pulsanti qua sotto per lasciare un like e se non sei ancora iscritto al mio canale clicca sul pulsante e iscriviti.